Presidente, è stato un fulmine al ciel sereno? Sì, purtroppo è una decisione, come ha ribadito prima Roberto, personale, che va oltre ogni tipo di ragionamento. Ci dispiace perché sapete che sono due anni che cercavamo di portarla a Pescara, però è una scelta personale che va rispettata e condivisa. Non c'erano state però avvisaglie? Ma nel modo più assoluto. Mi sembra che lui abbia anche detto esplicitamente che non ha nessun tipo di problema né a Pescara, né con i ragazzi, né con il mister, tantomeno con la società. Motivi personali, ha ribadito Guana, ha approfondito l'argomento con voi? No, ma ho evitato anche perché quando si tratta di problemi personali ognuno in casa sua sa quelli che sono i propri problemi, ma al di là di questo, la cosa che mi ha detto, lui non sente più di poter dare quello che deve dare e quindi è anche da apprezzare come decisione. Forse non sente più il fuoco dentro, come si suol dire, insomma gli stimoli, una questione di motivazione. Questo adesso è una moda un po' di parlare del fuoco dentro. Se ci fosse tutto questo fuoco dentro probabilmente i giocatori sarebbero tutti in fiamma. Evidentemente non ha più quegli stimoli che sono necessari per una vita che deve essere fatta con sacrifici se vuoi avere dei risultati. Quindi gli fa onore perché comunque è un giocatore che ha due anni di contratto a Pescara e io penso che in tanti avrebbero continuato a vivacchiare. Infatti lascia un contratto biennale, provvederete alla risoluzione? Tecnicamente le cose vanno così? Beh sì, tecnicamente ci sarà una risoluzione, però insomma è un aspetto tecnico questo. Adesso che cosa succederà? Insomma una società scandalierà ulteriormente il mercato per rimpiazzare Guana oppure vi fermerete comunque qui? Ma no, anche perché adesso sul mercato ci sono solo gli svincolati e tra le altre cose gli svincolati che sono fermi avrebbero bisogno di tre mesi per mettersi a posto. Noi abbiamo una rosa già completa, abbiamo in quel ruolo altri due ragazzi che sono Selasi e Torreira che sta venendo su in prima squadra quindi non credo che il mister abbia bisogno di intervenire sul mercato e gli svincolati. A gennaio ci sarà il rientro di Brugman, quindi io penso che la squadra sia già ben attrezzata per ben figurare, quindi deve essere anche uno stimolo per i ragazzi che restano per fare meglio di quello che hanno fatto fino ad oggi. A prescindere comunque, concludiamo, urge una risposta decisa sul campo. È quello che dicevo, quindi bisogna dare risposte sul campo, poi sulla carta stampata o in televisione è molto più semplice rispondere. Sul campo è un po' più difficile, è quello che ci aspettiamo noi. Sapete l'avviso del Presidente che serve o servirebbe più coraggio? Il coraggio serve nella vita in generale, quindi se non hai coraggio non puoi fare nulla. Se non hai quella forza che la mattina ti fa scattare in piedi all'alba non vai da nessuna parte. Ci vuole quella fama, quella fama è giusta e quel coraggio di fare. Tutti quelli che hanno queste caratteristiche nella vita riescono, quelli che ne hanno meno lo fanno un po' meno. A proposito di questo, insomma, c'è stato anche un colloquio tra il Presidente e il Tecnico dopo la partita di Vicenza. Io personalmente con Marco parlo molto spesso, quindi non c'è bisogno di fare colloqui dopo le partite. Ci confrontiamo molto e in settimana parliamo sempre, sia con Marco che con Giorgio che con Peppe, quindi sappiamo tutti quello che dobbiamo fare. Quindi diciamo tutti sulla stessa lunghezza. Ma io ho detto sin dall'inizio, quando si vince si esce, possono anche uscire solo tecnico e giocatori a prendere gli applausi. Quando le cose vanno meno bene bisogna uscire tutti insieme perché è lì che si vede il gruppo. Quando si vince è troppo facile fare il gruppo.